Uno dei nodi più controversi è quello dell'istruzione, in particolare sull'assunzione diretta dei docenti a livello regionale. Se ne è parlato sempre a Palazzo Chigi nel confronto tra il governo e i sindacati autonomi, che annunciano battaglia. Ci opporremo e cercheremo di sollevare anche tutti i nostri iscritti a tutela di tutta la scuola italiana.